Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi ed il patto segreto all'Isola dei Famosi. Spunta il retroscena raccontato in diretta, fans piazzati Dal grande fratello Vippa all'Isola dei Famosi il passo è breve Letteralmente. Sì, perché in queste ultime settimane abbiamo visto il passaggio di testimoni, con tanto di comparsata in studio all'ultima puntata dal Vip, tra Alfonso Signorini e Ilari Blasi Il mondo dell'intrattenimento televisivo, di casa Mediaset, si basa moltissimo su queste due figure che sono chiamata a condurre due programmi molto importanti per l'emittente Non in contemporanea, visto che dai vertici dell'azienda il monito è quello di sfruttare i reality a fasi alterni, permettendo al pubblico di essere sovraccaricato di format comunque simili per struttura e genere Ilari Blasi.Cosi, una volta terminata la lunghissima edizione del grande fratello Vip con la vittoria di Jessica Selassie, è toccato alla Blasi entrare in scena con l'Isola dei Famosi, che anche quest'anno conta tantissimi personaggi molto particolari Insomma, servirà tempo per capire che il programma di Ilari riuscirà a tenere botta come quello di Signorini, che in questi mesi ha fatto registrare dei numeri molto importanti Fatto sta che l'Isola rappresenta di sicuro un format sul quale Mediaset punta moltissimo E c'è grande fiducia anche nel lavoro della stessa Ilari. Proprio lei, che ha avuto anche la possibilità di condurre lo stesso Vip, adesso si ritrova a misurarsi nuovamente con un format complesso all'interno del quale serve grande personalità Sì, perché gli insidi all'interno dei reality non riguardano soltanto i concorrenti sull'Isola, ma anche la conduttrece E nelle ultime ore ne ha capito qualcosa.Isola dei Famosi, l'addio di Floriana e la rivelazione della Blasi Durante l'ultima puntata andata in onda, si è creato imbatti becco a distanza tra studio ed Isola Amminacciare l'addio, infatti, è stata Floriana Secondi, una delle concorrenti più attese di questa edizione Proprio lei, protagonista e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello quello non Vip, e dunque potenzialmente esperta di reality, è andata in difficoltà appena dopo una settimana Diretta dell'Isola dei Famosi.I Così, dopo aver minacciato di voler andare via e lasciare il programma, Floriana ha attirato addirittura la risposta piccata della stessa Blasi La conduttrice ha fatto una rivelazione molto particolare riguardo la Secondi e la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, è chiaro che tu possa prendere qualsiasi decisione, non possiamo trattenerti, ha spiegato Ilari che è poi entrata nel merito di un retroscena Però ti ricordo una cosa, sono due anni che mi scrivi su Instagram, io so quanto tu desideravi e ci tenevi a fare questa esperienza, ha spiegato Ilari Noi ci siamo incontrate, tu hai detto che eri felicissima di fare questa esperienza Ci siamo parlate, ci siamo confidate, mi hai raccontato la tua storia, non me l'aspettavo da te Io te abbiamo un patto, abbiamo fatto un patto prima di partire, ha ancora rivelato la conduttrice in diretta Insomma, non conosciamo l'entità del patto segreto, ma alla fine Floriana ha deciso di restare Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video